Quando cotto un broccoletto, una patata, un pomodrino, ti faccio vantare ad essere vegetariano. Incomincia dalla patata, sperala, taglia a fette, a noi ci piacciono gli latini, si può raffinare. Ti vuoi ripar pure dell'aglio? No, guarda che voglio, tagliamela, stacchiamala, ecco arriva la patatina. Ma queste devono prendere il colore loro, non puoi capire queste parti che si sente. Guardate queste sono belle, mamma mia! Restiamo i broccoletti, sempre sale grosso, mi raccomando. Levamolo l'aglio, mettili qua dentro, dai! Dagli una schiacciatina, ma appena appena eh! Guarda questa acqua dei broccoletti, pizzico di sale, peperoncino, guardate che sono belli, guardate il colore, guardate che sughetto. Tiè, li mettiamo al centro, così, filo d'aglio al buono, e gli amici miei cani, questo va bene così. Per gli altri, guardate questa bella nevigata di pecorino romano.